Stasera ha veramente dato spettacolo, peccato per una partenza forse che si poteva evitare, però ha dimostrato questa squadra di poter competere allo stesso livello con le grandi nonostante le pesanti assenze. Sì, si poteva evitare non lo so, perché come si poteva evitare la partenza poteva finire anche 3-0 in un'ora, quindi alla fine sarà meglio che siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare. Certo, si può sempre fare meglio e alla fine speravamo anche di poterla vincere questa partita, perché chiaramente una volta che sei lì noi abbiamo cercato poi di portare a casa la posta, se non piena, comunque i due punti della vittoria. Credo che alla luce delle condizioni in cui siamo ultimamente, non ultimamente, ma da un bel po' di tempo ci sia poco da dire, siamo riusciti ad ottenere un punto con una grande squadra in condizioni purtroppo non ottimali per noi. E' un ottimo risultato. Un soverato che ha dimostrato un grande carattere, soprattutto perché è arrivata qui questa sera la terza della classe e la partita è stata decisamente diversa rispetto a quella contro Loreto e contro Giaveno. Sì, due squadre molto diverse. Devo dire che io alla vigilia di questa partita temevo che potesse saltare la nostra ricezione, ma in realtà la nostra ricezione non è mai saltata. Anzi, credo che sia stata, devo guardare ancora bene i dati, ma credo sia stata una delle partite dove noi abbiamo ricevuto meglio in assoluto da quando ci sono io. Quindi il problema non si è verificato. Il problema è che facevamo molta fatica a passare in attacco perché questa squadra a muro la dice lunga, ci dà almeno 10 centimetri con due centrali come Paolini, Devetag, Rondon, tutte giocatrici oltre il metro e novanta. Era veramente difficile passare, nonostante una buona ricezione, perché devo dire che comunque abbiamo avuto una buona ricezione. Io credo che dobbiamo, come dire, guardare il bicchiere mezzo pieno perché effettivamente il lavoro che è stato fatto da queste giocatrici e la dimostrazione di attaccamento alla maglia e di volontà, lo ripeto, nonostante le cadute che sarebbero potute occorrere dopo due set persi in così malo modo, siano sotto gli occhi di tutti. Forse l'unico neo che possiamo trovare questa sera al suo soverato è quello di non essere riuscito a mettere le mani a muro quando attaccavano i primi tempi e le fast. La Rondon, quando era in difficoltà, si affidava sempre alle sue centrali. A questo punto mi verrebbe da dire provate voi a murare la Paolini perché passa veramente molto alto sopra la rete e non sto scherzando. Noi sicuramente a muro potevamo raccogliere di più perché siamo una squadra che solitamente a muro gioca meglio, ma non tanto sui centrali perché i centrali passano veramente molto alti, quanto sui loro laterali potevamo murare qualcosina di più, soprattutto sulla Secolo, sulla Togo. Sul Togo non abbiamo neanche lavorato male perché Togo non ha fatto granché. Sulla Fanzini e sulla Secolo avremmo potuto fare qualcosina di meglio, però sui centrali, credetemi, era veramente difficile.